La Cosa Loro La Cosa Loro La Cosa Loro Giurano gli allievi della scuola di polizia, cerimonia conclusiva del 196esimo corso al quale hanno partecipato 235 agenti. Siate rispettosi della legge, ha detto loro Franco Gabrielli, giunto a vivo per prendere parte all'importante appuntamento. In certo il futuro della scuola. I portuali sperano ancora. Il Ministero dei Trasporti chiede a MCT e sindacati di non interrompere le trattative. Ancora un mese di tempo per ridurre gli esuberi all'interno del porto di Gioia Tauro, confermata la creazione dell'agenzia che dovrebbe assorbire gli operai licenziati. Primo acuto della Callipo, la formazione di vivo conquista il primo successo in campionato, arriva a Milano nel turno infrasettimanale di Superlega ed ora sotto con Perugia al Palavalenzia. Edizione delle 14 del nostro giornale. Buongiorno d'Emilia Canonaco. Questo è lo spazio della C dedicato alla informazione. In apertura la cronaca Operazione Confine 2 della DDA di Reggio Calabria con i carabinieri che hanno arrestato 14 persone. Sgominato il clan dei Ruga che per anni, questa almeno l'accusa, avrebbe spadroneggiato nel comune di Monasterace. Indagini partite nel 2011 dalle intimidazioni all'allora sindaco Maria Carmela Lanzetta, distrutta la sua farmacia. Lanzetta poi, come ricorderete, proprio in virtù di queste minacce fu chiamata a far parte come ministro per gli affari regionali del Governo nazionale. I reati contestati sono di omicidio, estorsioni, traffico di droga e tanto altro ancora. Il tutto aggravato dalle modalità mafiose. 14 arresti e la procura di Reggio decima il clan Ruga di Monasterace e fa luce su un omicidio efferato, quello di Andrea Ruga, che sarebbe stato soffocato a morte per ordine del fratello Giuseppe Cosimo. A parte la faida familiare, il gruppo sarebbe responsabile di un'imponente rete mafiosa fatta di controllo dello spaccio di droga, di danneggiamenti ed estorsioni, comprese in ipotesi quelle contro l'ex sindaco di Monasterace, Maria Carmela Lanzetta, nei cui confronti gli intercettati si esprimono in maniera offensiva lasciando trasparire un evidente contrasto. Agli indagati, però, non vengono contestate specifiche condotte in danno dell'ex ministro. È però proprio dall'incendio della farmacia dell'allora sindaco che l'operazione Confine 2 prende le mosse. Gli indagati avrebbero esercitato sul territorio un controllo quasi totale, intimidendo, danneggiando e picchiando chi si opponeva allo strapotere della cosca, capeggiata proprio da Giuseppe Cosimo Ruga. Francesco Creazzo per la Cineus 24 Nel corso della mattinata abbiamo tentato numerose volte di raggiungere al telefono l'ex sindaco Maria Carmela Lanzetta proprio per chiederle un commento, ma la stessa, almeno fino a questo momento, risulta irreperibile. Lo avete appena ascoltato dal servizio del collega Francesco Creazzo. Tra le 14 persone arrestate figura anche Giuseppe Ruga, accusato di aver assassinato nel gennaio del 2011 il suo fratello Andrea Reo, di aver preso il suo posto, mentre lo stesso si trovava in carcere. A questo proposito duro il commento del procuratore di Reggio Federico Caffiero Terau che ha detto l'andrangheta non ha sentimenti, non conosce affetti. Questo ancora una volta dimostra come nell'ambito dell'andrangheta non vi sia una forza familiare fondata sul sentimento. Il sentimento è qualcosa che vale forse per gli altri, ma non per loro. Evidentemente gli interessi e la capacità di controllo e di sopraffazione sono quelli che prevalgono. Probabilmente dobbiamo, oltre che intervenire con le indagini, dare educazione e formazione ai ragazzi che vengono fuori da queste famiglie perché non perpetuino gli errori dei genitori. Sono trascorsi ormai sei anni dal ritrovamento nelle campagne tra Maglierato e Pizzo, comuni della provincia di Vibo, Valencia, del corpo di Nicola Colloca, allora infermiere di 49 anni. I suoi familiari attendono giustizia. Adesso il padre di Nicola ha deciso di rivolgersi con una lettera molto toccante direttamente al capo dello Stato, Mattarella. Le lungaggini della giustizia in un caso di omicidio diventano, per chi le vive, attese infinite e cariche di angoscia in cui il dolore si rinnova e non trova conforto nel raggiungimento della verità. È quello che accade da sei anni ai familiari di Nicola Colloca. L'infermiere a 49 anni venne trovato privo di vita la notte del 26 settembre 2010 in una zona di campagna tra Pizzo e Maglierato, nel Vibonese. Il corpo dato alle fiamme all'interno di un'auto. All'inizio la vicenda venne liquidata come suicidio, ma troppi erano i punti oscuri e le incongruenze. I familiari lottarono per anni perché si arrivasse alla riesumazione del corpo. Dall'esame risultò ciò che avevano sempre sospettato. Nicola è stato ucciso, colpito con un oggetto contundente che gli ha provocato una grave lesione al cranio e successivamente è caricato a bordo dell'auto e bruciato, forse nel tentativo di distruggere ogni prova. Da quel momento le indagini sembrano sempre al punto di svolta. Gli inquirenti appaiono sicuri della dinamica, ma non succede niente. Le indagini hanno portato, secondo quello che mi è stato detto, che l'omicidio è stato consumato in famiglia. A maggio ci è stato riferito che questa informativa era già passata al GIP. A tutt'oggi niente è emerso. A questo punto mi sono rivolto al Presidente della Repubblica, al Ministro di Grazia e Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura, perché mi diano della spiegazione. Loredana Colloca per l'AC News 24. I carabinieri di Cosenza hanno arrestato Roberto Porcaro, giovane di 32 anni, perché è accusato di essere uno dei mandanti e degli organizzatori dell'omicidio di Luca Bruni, figlio del boss di Ndrangheta della Cosentino, soprannominato Bella Bella. Il corpo di Luca Bruni fu rinvenuto nelle campagne di Castrolibero, alle porte della città di Cosenza, esclusivamente grazie al racconto di due collaboratori di giustizia. La manna e Foggetti è messo un provvedimento restrittivo nei confronti di una seconda persona, già però ristretta in carcere. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia franco-bruzzese, capoclan dei nomadi, già condannato a nove anni di reclusione, hanno aperto uno squarcio sulle circostanze della morte di Luca Bruni, alias Bella Bella, assassinato il 3 gennaio 2012, per ridimensionarne il ruolo predominante, consentive l'ascesa della nuova famiglia, quella dei Lanzino. Sulla base dei nuovi elementi acquisiti, la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha emesso due ordinanze di custodia cautelare, eseguite dai carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, nei confronti di Francesco Patitucci, 55 anni, già recluso nel carcere di Cosenza, e di Roberto Porcaro, per il quale si sono invece spalancate le porte della casa circondariale di Via Popidia. Respinte dal giudice per le indagini preliminari altre tre richieste di provvedimenti restrittivi nei confronti di Ettore Lanzino, Alberto Superbo e Umberto Di Puppo. Il magistrato ha ritenuto insufficienti gli indizi raccolti nei loro confronti. Il corpo di Luca Bruni era stato interrato in una zona di Castrolibero ritrovato due anni più tardi, solo grazie alle dichiarazioni dei pentiti. Un omicidio inquadrato nella guerra di mafia per il potere criminale a Cosenza, sul quale si sta facendo piena luce. Da Cosenza per la Cineus 24. Da Cosenza a Vibo Valencia, questa mattina cerimonia di giuramento dei 235 agenti che hanno frequentato il 196esimo corso della scuola per agenti della Polizia di Stato. Le immagini nel prossimo servizio. Agenti prova del 196esimo corso. Lo giurate voi? Lo giuro! Di forte impatto emotivo il giuramento di fedeltà alla Repubblica pronunciato dai 235 allievi agenti della scuola di polizia di Vibo Valencia che dopo otto mesi di formazione teorica e pratica sono pronti a far parte del corpo della polizia. Ed eccoli i nuovi angeli della sicurezza, emozionati e fieri di indossare la divisa. La cerimonia di giuramento del 196esimo corso si è svolta in un affollato piazzale della scuola allievi agenti intitolata ad Andrea Campagna. presenti le massime autorità civili, religiose e istituzionali della provincia e c'era pure il capo della polizia, Franco Gabrielli, una presenza la sua che ha testimoniato la vicinanza dello Stato a questo territorio. Ad aprire la cerimonia il direttore della scuola allievi agenti da oggi, ha detto Stefano Dodaro, rivolgendosi ai suoi allievi, inizia per voi una nuova vita. Sarà un lavoro impegnativo ma entusiasmante. Siate orgogliosi di appartenere alla polizia, ha detto Dodaro, augurando ai suoi uomini un buon futuro. L'inno di Mameli ha preceduto il giuramento. Ad assistere alla cerimonia i familiari dei poliziotti giunti da ogni parte di Italia è toccato poi al capo della polizia a parlare ai nuovi agenti. Nel suo discorso Franco Gabrielli ha esortato i suoi uomini a rispettare la legge, ad essere persone credibili, siate, ha detto, primariamente uomini e donne rispettosi della legge. Solo dando il buon esempio si può pretendere di fare rispettare le regole. E poi il suo in bocca al lupo ai ragazzi, che già da domani andranno a rinforzare il corpo della polizia per rendere il nostro paese vivibile e sicuro. Cristina Iannuzzi per la CNews24. Un importante presidio di legalità e sicurezza è appunto quello della scuola di polizia Vibo Valencia, una struttura che però è a rischio. Allora sentite le preoccupazioni del capo della polizia Gabrielli, che come ha detto Cristina stamattina era presente alla cerimonia di giuramento. Purtroppo questa è una scuola cartolarizzata, perché c'è stata una stagione in questo paese nella quale si è immaginato di fare della finanza creativa, si è immaginato di fare cassa immediata senza avere visione prospettica. Noi ci auguriamo che questa scuola abbia un futuro. Però purtroppo non dipende solo dalla polizia di Stato, perché noi entro il 2022 dovremo riconsegnarla. Dal momento che la consideriamo un'eccellenza, dal momento che consideriamo questa scuola un presidio anch'essa di legalità, è un presidio dello Stato, il volto migliore dello Stato, come diciamo noi, ci auguriamo che quella scelta, che come amo definire quando non condivido le cose non felice, abbia ad avere una decisione diversa e quindi questo territorio abbia a mantenere questa struttura che, ripeto, per noi sarà sempre più importante. Come vado ripetendo da tempo, da qui al 2030 noi avremo 40.000 persone in pensione e quindi da qui al 2030 dovremmo formare nuovi agenti, nuovi appartenenti all'amministrazione della Polizia di Stato. Quindi abbiamo bisogno di scuole, abbiamo bisogno di scuole efficienti, abbiamo bisogno di scuole che costituiscono un'eccellenza. Credo che Vivo Valencia si possa tranquillamente ascrivere a questo novero di strutture, anche per quello che abbiamo visto oggi. Siamo adesso alla pagina del giornale dedicata alla politica con Iole Santelli, responsabile regionale del Partito di Forza Italia che decide di tenere per sé la carica di commissario provinciale del Partito di Reggio Calabria. Nominati però due commissari provinciali, subcommissari provinciali nelle persone di Alessandro Niccolò e Francesco Canizzaro. Il tutto snobato è invece l'attuale vice coordinatore regionale Nino Foglio, che è stato inserito semplicemente nel direttivo provinciale. Non era una fantasia autunnale, così come si era augurato il vice coordinatore regionale di Forza Italia Nino Foti. Il progetto di riorganizzazione del partito, ideato da Iole Santelli, è adesso in realtà e pare destinato a creare nuovi scompensi all'interno degli azzurri. Intanto perché, dopo lunghi mesi di commissariamento tenuto ad interim dalla stessa Santelli, il partito reggino rimane ancora sotto tutela. Nessuna nomina di coordinatori o commissari. La Santelli si tiene strette le leve del potere e si è limitata a nominare due subcommissari e una pletora di soggetti all'incirca tutto il partito all'interno del coordinamento provinciale del direttivo. I due subcommissari sono il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Alessandro Niccolò e il consigliere regionale della Casa delle Libertà Francesco Cannizzaro. Sostanzialmente gli unici due big rimasti in casa azzurra dopo i repulisti, le fuoriuscite, le sconfitte elettorali e anche le indagini di polizia che hanno ridotto il partito ai minimi storici. La Santelli, di fatto, mette anche Nino Foti in forte imbarazzo, in quanto nonostante quest'ultimo sia il vice coordinatore regionale, non trova spazio se non nel direttivo allargato del partito. La sua reazione potrà essere monitorata in occasione del meeting che lo stesso ha organizzato per domani per discutere del futuro del partito e della città di Reggio. Dentro il direttivo anche Edoardo Lamberti Castronuovo, capolista dell'Istone del centrodestra alle elezioni per il Consiglio metropolitano, che a questo punto può considerarsi ufficialmente dentro il partito di Berlusconi. Riccardo Tripepi per la CNews24. Dalla politica alla pagina del giornale che riguarda l'occupazione. Oggi ci occupiamo dell'avvertenza dei portuali di Gioia Tauro. Ieri riunione al Ministero dei Trasporti concesso un altro mese di tempo alle parti per cercare di arginare il numero veramente molto alto degli esuberi attualmente fissati in A442. Intanto confermata la creazione dell'agenzia che dovrebbe, tra le altre cose, assorbire gli operai che purtroppo verranno giocoforza licenziati. Un mese di tempo. Questo è il termine dato dal Ministero dei Trasporti per chiarire il nodo esuberi al porto di Gioia Tauro e ridurre al minimo le eccedenze di personale. Al momento, per MedCenter, i lavoratori in esubero sono 442 da cinque anni in cassa integrazione, ma l'azienda si è dichiarata disposta a trattare. Durante la riunione convocata a Roma si è deliberato lo stanziamento di risorse per la neonata agenzia per il lavoro portuale che dovrà riassumere gli operai licenziati. I tre ministeri coinvolti, di concerto con Invitalia, Regione Calabria e Autorità Portuale, avrebbero stimato in 20 milioni di euro le risorse da destinare per il primo anno, 15 milioni per il secondo e 10 milioni per il terzo anno. Si allentano così, almeno parzialmente, le tensioni che nelle scorse settimane avevano portato al blocco delle attività dello scalo per quasi due giorni. Al tavolo convocato dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture, Ivano Russo, hanno partecipato anche i tecnici del Ministro Graziano Del Rio e i vertici della MedCenter rappresentati dal Procuratore Speciale Antonio Testi. Loredana Colloca per la CNews 24. E chiamo subito in causa i colleghi Pietro Comito e Rosaria Giovannone. Buongiorno a voi perché del porto di Gioia Tauro e del futuro che voi chiamate in milico si occuperà la puntata odierna dei fatti in diretta. Sì, hai detto bene. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto vi dico che MedCenter, che è un colosso multinazionale che gestisce il porto di Gioia Tauro, dice oltre 400 i lavoratori in esubero. Intanto ieri si è svolto al Ministero delle Infrastrutture un vertice per stabilire, per fare chiarezza sui tempi ma anche sul come sarà attivata questa nuova agenzia per il lavoro portuare. Allora noi ci chiediamo se questo basterà per evitare lo strappo occupazionale e poi quale futuro per il porto di Gioia Tauro, uno dei più importanti d'Europa? Lo faremo parlandone con il sindaco di Gioia Tauro, Giuseppe Pedà, con Gualtiero Tarantino che è il responsabile porti per Confindustria Reggio Calabria. Lo faremo con il professor Domenico Marino, economista e docente dell'Università Mediterranea, il quale ha spiegato, e certo non lo fa soltanto in questi giorni ma lo fa da tempo, il problema della bolla dei porti che travolge e rischia di creare degli effetti su scala internazionale più o meno come accadde con lo scandalo Lehman Brothers che poi ricordate dal 2008 oggi è stata la ragione della crisi mondiale. Ecco, una crisi mondiale dei porti che nasce appunto da questa bolla e che travolge inevitabilmente anche Gioia. Sono i temi sui quali ci confronteremo e lo faremo anche attivando, un collegamento in diretta con Gioia Tauro dove siamo stati nei giorni scorsi a registrare le voci non solo dei cittadini ma soprattutto quelle dei lavoratori coinvolti. Restate con noi subito dopo il telegiornale. Buon lavoro ragazzi, noi intanto ritorniamo a Cosenza per parlarvi dei dettagli che hanno riguardato, che riguardano la sigla di un protocollo tra la Procura Bruzia e la Camera di Commercio. Sulla base di questo accordo la magistratura cosentina potrà adesso accedere al registro dei protesti alle banche dei marchi e dei brevetti. Il procuratore capo di Cosenza, Mario Spagnolo, ha sottoscritto un protocollo di intesa con il presidente della Camera di Commercio, Klaus Salgevi, che consentirà all'autorità giudiziaria di accedere gratuitamente alle banche dati dell'ente per effettuare verifiche e ricerche di dati su imprese di tutto il territorio nazionale. nell'ottica di un più efficace contrasto ai reati di tipo economico. Come la mela cattiva guasta il cesto delle mene buone, l'imprenditore disonesto, alterando le regole del mercato, finisce per provocare dei danni immediati sul sistema economico locale e quindi sull'imprenditoria onesta. Per cui l'attività di indagine della Procura sarà massima, l'attenzione è particolare, stiamo affrontando dei protocolli di lavoro specifici per reprimere al meglio questo tipo di reati e nel fare questo ci avvaliamo chiaramente delle banche dati qualificate come quella di Infocamere, che rappresenta uno strumento all'avanguardia per l'utilità dei soci e in questo caso anche della Procura della Repubblica. Noi mettiamo a disposizione tutti i nostri dati alla Procura della Repubblica, io lo ritengo un atto dovuto, quindi ci mettiamo a disposizione per qualunque cosa possa servire alla Procura. La Procura per le sue indagini fa accesso in modo diretto al registro di nostre imprese, è previsto anche dalla legge. Salvatore Bruno per la CNews 24. La viabilità torna ad essere transitabile nella Catanzarese, la strada provinciale 172. Dal prossimo servizio scopriamo quali sono i tratti interessati da questa riapertura. Ok, un applauso. Inauguriamo questo tratto di strada in località Don Antona di Borgia che mette fine ad un cantiere che si è reso necessario per sistemare un fronte di frana che durante un'alluvione si è abbattuto su questo territorio. È una strada molto importante che collega Borgia e l'entroterra borgese, Gini Falco, con la 106 Ionica. E quindi questo ci consente oggi di mettere in sicurezza questa area, questo territorio e questa strada provinciale che nel tempo ha causato molti disagi sia agli abitanti di questa frazione sia agli automobilisti che attraversano queste importanti arterie. Oggi finalmente chiudiamo questa pratica e diamo la strada ai cittadini, al comune di Borgia. Ringrazio il sindaco per essere qui questa mattina e riteniamo conclusa un'altra importante opera. Sulla viabilità ormai stiamo investendo molto perché è una delle funzioni fondamentali della legge del Rio alle province o alle aree vaste che dopo il 4 dicembre prenderanno il posto delle province se vincerà, come mi auguro, il sì e che ci consente oggi di avere uno dei sistemi viari più efficienti della Calabria. Rossella Galati per la C News 24 Voltiamo ora decisamente pagina Cosenza si smuove questo è il titolo della maratona musicale in programma per domenica 23 ottobre nel quartiere Arenella nel cuore del centro storico di Cosenza sul palco si alterneranno 27 diverse band per una totale, pensate complessivo, di 100 musicisti la musica incontra la solidarietà perché saranno raccolti fondi da destinare alle popolazioni terremotate del centro Italia a questo punto però una brevissima considerazione speriamo che lo stesso centro storico della città dei Bruzzi possa presto essere messo in sicurezza Si partirà dalle 16 fino a mezzanotte con una serie di concerti e di esibizioni che vedranno tutti questi artisti collaborare tra di loro e non solo fare il loro concertino la loro esibizione a sé stante ma appunto suonare insieme diciamo stare insieme tutta l'insegna della solidarietà vista anche in questo senso quindi non solo portare solidarietà fare delle donazioni alle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia ma anche confrontarci stare insieme e poi è uno degli obiettivi dell'evento stesso quello di coinvolgere così tanti artisti musicisti e non solo per un evento di solidarietà e di aggregazione appunto Salvatore Bruno per la CNews 24 Siamo allo sport e oggi una volta tanto partiamo dalla pallavolo la Tonno Calipo Vibo batte Milano al tie-break nel turno infrasettimanale di Superlega e conquista il primo successo dell'anno Arriva la prima vittoria per la Tonno Calipo i ragazzi di Cantora espugnano Milano al termine di una maratona chiusa definitivamente al tie-break con il turno infrasettimanale i giallorossi cancellano il segno zero dalla classifica conquistando i primi due punti primo set incoraggiante per il sestetto calabrese che parte in vantaggio grazie all'ES di Barone che porta il primo distacco ma Milano reagisce recupera e supera chiudendo sul parziale 25-18 il secondo set viene giocato punto a punto ma è la Tonno Calipo ad avere la meglio un errore in attacco di De Tonni e l'ES di Coscione chiudono la seconda frazione 23-25 il terzo set si apre con un monologo giallorosso Gayler, Barreto, Silva e Barone alla carica portandosi sul 13-20 ma Milano risponde prepotentemente e si chiude 23-25 quarto set fotocopia i giallorossi si portano avanti ma sprecano clamorosamente l'occasione per chiudere i conti rimandando tutto al tie-break questa volta senza storia Gayler e Barone trovano il massimo vantaggio Coscione allunga ma chiudere i conti definitivamente ci pensarei lei che piazza la palla dell'11-15 alla quarta giornata arriva la vittoria dei giallorossi che possono così tirare un sospiro di sollievo in attesa della prossima gara al Palavalenza dove a far visita ci sarà Perugia con il suo zar Maria Chiara sigillò per la Cignus 24 e poteva mancare il calcio certo che no parliamo di Serie C con la Vibonese che in seguito alla sconfitta da parte del Messina per due gol a zero dice addio alla Coppa Italia di Lega Pro Massimo Costantino era stato chiaro alla vigilia la Coppa andava onorata ma l'obiettivo era e resta il campionato così con pochi sussulti la Vibonese salute il torneo tricolore di Serie C lo fa Messina sul campo del neotecnico Lucarelli buona la prima quindi per l'ex attaccante del Livorno da poche ore sulla panchina peloritana nel rettangolo di gioco ci sono tante seconde linee da una parte e dall'altra sugli spalti pochi intimi come è prevedibile la gara regala più sbadigli che emozioni ad illuminarla un paio di lampi di Pozebon nel primo tempo e le reti di Ferri e Madonia nella ripressa che chiudono la pratica Coppa Italia e rispediscono la Vibonese a casa il Messina si qualifica quindi al prossimo turno in cui affronterà il Catania per gli uomini di Massimo Costantino mentre gambe invece solo al campionato domenica c'è il Francavilla e serve una vittoria per non rischiare di scivolare troppo in fretta in ultima piazza Alessio Buompasso per la Cineus 24 Massimo Costantino allenatore della Vibonese incontrando i giornalisti in conferenza stampa e analizzando la sconfitta da parte della Messina ha detto sono soddisfatto dei giocatori che generalmente utilizzo di meno certamente non del risultato nel primo tempo è stata una gara molto equilibrata una gara dove le due squadre si sono affrontate a visaperta una squadra dove non c'è stata nessuno che l'ha fatta da padrone quindi stava scivolando sul risultato di parità poi quella nostra disattenzione all'inizio del secondo tempo ha spostato la partita su altri binari Messina poi ha avuto anche la forza di raddoppiare per cui la gara è terminata a noi questa gara è servita oltre che per far fare minuti ad alcuni calciatori come Favasulli e come altri anche per dare la possibilità ad alcuni ragazzi di mettersi in mostra in una partita ufficiale devo dire che sono abbastanza contento dei ragazzi che sono scesi in campo c'è stata anche la possibilità di vedere qualche ragazzo nel nostro vivaio come Surace classe 99 che ha fatto anche bene in questa gara allora non ci sono aggiornamenti di rilievo dunque mi fermo qui grazie per essere rimasti in nostra compagnia ma voi non cambiate canale perché tra pochi minuti ci sarà una nuova puntata dei fatti in diretta oggi interamente dedicata alla crisi del porto di Gioia Taur arrivederci visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia la C News mattina da lunedì a sabato alle ore 7 domenica ore 8 i calabresi sono informati grazie a tutti